Si punta sul medico di famiglia come componente fondamentale del sistema sanitario regionale. I medici di famiglia faranno gratuitamente i tamponi, per lo più quelli rapidi, apparenti e conviventi dei positivi già accertati. Lo prevede un accordo tra la regione con le due sigle di categoria più rappresentative e con l'associazione dei pediatri. Accordo che andrà comunque rispettato anche dagli iscritti ad altri sindacati. I medici di famiglia seguiranno i tamponi alle categorie più esposte, alleggerendo così il carico di lavoro delle USCA, le squadre di medici e infermieri chiamate a dare assistenza domiciliare e il peso che si scarica sugli ospedali. Inoltre potranno essere controllati dai medici di famiglia anche i casi sospetti, ovvero chi è stato a contatto per almeno un quarto d'ora in un ambiente chiuso con un positivo già accertato. Parenti dei positivi e casi sospetti potranno spontaneamente contattare il medico di famiglia prenotando un controllo gratuito. I medici agiranno in due diverse modalità. Chi ha uno studio che lo consente può ricevere i pazienti, altrimenti convocherà le persone da controllare nel luogo e nell'ora che verrà concordata con le ASP. Il nodo in questo caso è dato da quegli studi professionali che si trovano in condominio senza ingresso autonomo o dove è facile il contatto con le altre persone. Lì non potranno essere fatti i controlli.